L'amministratore della città era anche un sacerdote più importante, questo è un doppio potere, questo è collegato dalle doppie corde e dalla doppiazza, l'altra sono le due feste, era il ciclo più importante dell'isola di Grecia, come noi a tutti gli anni abbiamo la croce, come ogni popolo ha la sua bandiera.